Nasce la città unica Corigliano Rossano, l'incendio nella tendopoli di San Ferdinando, l'autobomba di Limbadi con l'uccisione di Matteo Vinci, la condanna definitiva di Giuseppe Scopelliti, inaugurato il ponte di Calatrava, inchiesta di Calabria Verde, il Cosenza promosso in Serie B, la tragedia del Raganello, l'inchiesta sul Lucano, morti soffocate dall'acqua alla Mezzia, il Presidente della Repubblica San Demetrio Corone, la dottoressa Grevita Crotone, scura lasciala Calabria, inchiesta Lande desolate.